ed eccole un paio di organ come arrivano in laboratorio camminando può capitare che i talloni struscino tra di loro soprattutto è la gomma che fa questo effetto la gomma della suola che a contatto con la pelle crea questi fastidiosissimi segni in pratica si fa una lacerazione sul pellame una decolorazione può capitare rigorosamente tutto a mano ricreando il colore originale rigenerazione pellame e colore sulle over come nuove per conservare sempre l'effetto è opportuno ogni tanto anche applicare un protettivo sulle zone a contatto tra di loro come i talloni operazione terminata con successo